Salve a tutti ragazzi e benvenuti su Elite Gaming. Benvenuti su Destiny 2 in questo nuovissimo videoguida in cui voglio darvi qualche dritta per poter completare il più velocemente possibile il sigillo scrittore spettrale e ottenerne così l'omonimo titolo. Diciamo che questo videoguida è più organizzato ai ritardatari che ormai hanno soltanto una settimana per poter completare i 16 trionfi disponibili, 20 volendo includere anche l'indoratura e sostanzialmente nei prossimi minuti ho intenzione di darvi qualche dritta per velocizzare un po' il processo. Dunque senza perderci in ulteriori chiacchiere, incominciamo. I primi 4 trionfi, ovvero Criptozoologo e Topo di Biblioteca dall'1 al 3, sono tutti legati alle pagine dei racconti dimenticati volume 2 e sostanzialmente dovrete comprare queste 27 pagine nell'altarino posto sulla torre vicino ad Eva consumando le pagine materializzate, ovvero una risorsa di questo evento. Sono sicuro che ormai il processo lo conoscerete bene, però per farla breve, completando tutte le attività, quindi gli assalti, il crugiolo, azzardo e via dicendo, si otterranno delle pagine. Completando poi i settori perduti infestati, queste pagine verranno convertite in pagine materializzate, che potranno essere spese poi sulla torre per comprare i capitoli del racconto dei dimenticati. Per ottenere queste risorse purtroppo non c'è un modo per velocizzare più di tanto il processo. Il mio consiglio è di prima dedicarvi alle attività per ottenere la prima risorsa, quindi giocate tranquillamente azzardo, crogiolo, svolgete le vostre attività liberamente, ricordandovi però che a 75 di queste pagine c'è il cap e non se ne otterranno più. Quindi monitorate attentamente il vostro inventario per evitare di sprecare tempo. Completate queste attività, buttatevi nei settori perduti, intanto vi servirà completarne diversi, convertite tutte quelle che avete. Andate sulla torre, comprate qualche capitolo e ricominciate da capo, il tutto finché non avrete sbloccato tutti e 27 i capitoli. Proseguendo poi torniamo, rotoleranno teste, sconfiggi senza testa nei settori infestati. Questo obiettivo ignoratelo, tanto vi assicuro lo completerete come niente. Troviamo poi infestazioni locali, dovrete completare tre volte il settore perduto infestato di ogni destinazione, quindi sulla Luna, su Nessus, su Europa e nella zona morta europea. Purtroppo la playlist è casuale, ma vi assicuro che anche qui è davvero difficile completare tutti quelli che comunque dovrete completare senza farne almeno tre per tipo, quindi date poco peso anche a questo trionfo qui. Poi troviamo l'angolo dei dolci, ottenere 17.500 dolci dalle attività. Equipaggiate la vostra maschera e semplicemente giocate. Vi garantisco che a 17.500 sarà davvero facile arrivare. Incontro misterioso, acquista dei sacchi dei regali epici e misteriosi da Eva. Semplicemente utilizzate i dolci ottenuti dalle attività per comprare questi sacchetti speciali. Me ne serviranno giusto un paio, quindi anche il requisito di dolci non sarà elevatissimo. Poi sem precisione, sconfiggi i combattenti con i fucili di precisione, autoesplicativo, trasmissione automatica, stessa cosa con i fucili automatici e a seguire il terzo colpo e quello buono che vi chiederà la stessa identica cosa ma con i fucili a impulsi. Semplicemente utilizzate questa categoria di armi ed effettuate uccisioni finché non raggiungerete l'obiettivo. Troviamo poi shock conclusivo, sconfiggi i combattenti con l'energia ad arco, equipaggiate le vostre sottoclassi ad arco e semplicemente giocate. Rituale occulto, completa le attività rituali tra cui assalti, partite del crogiolo e partite di azzardo. Questo obiettivo lo completerete banalmente raccogliendo le pagine che vi serviranno per i primi quattro trionfi. Operazione ponte, completa le attività di operazioni dell'avanguardia o scontro di catch, stessa cosa. L'ideale qui è chiaramente svolgere le operazioni dell'avanguardia per completare sia questo che rituale occulto. Bandito mascherato, completa le partite di azzardo e di crogiolo mentre indossi una maschera della festa. Anche se a onor del vero il progresso cita i dolci ottenuti e non le partite completate, comunque anche questo lo completerete proseguendo con rituale occulto. E per concludere, i 16 trionfi base troviamo buona disinfestazione, completa le attività nella playlist dei settori infestati, che richiederà ben 35 completamenti, che sono un po' tantini per i miei gusti perché per ottenere tutti gli altri obiettivi, soprattutto quello delle pagine, ve ne serviranno meno. Però tant'è, 35 ne dovrete completare e vi garantisco che 35 ne farete, per fortuna non è un'attività che porta via più di tanto tempo. Passando poi ai 4 trionfi per ottenere l'indoratura, innanzitutto uno fra tanti, sconfiggi tutti senza testa in una singola sessione di un settore infestato. La parte difficile di questo trionfo è che i giocatori spesso concludono l'attività prima di poter uccidere tutti senza testa, perché quando si arriva nella fase boss, mancheranno ancora diversi senza testa. Il problema di fatto è che è possibile eliminare il boss prima di far spawnare tutti senza testa. L'ideale sarebbe completare questo trionfo insieme a degli amici, così da potersi coordinare. Ma se non ci doveste riuscire, innanzitutto cercate di ostacolare i vostri compagni, quindi quando siete nella fase dei boss, prendete le zucche esplosive e lanciatele contro i muri. In secondo luogo, conservatevi munizioni pesanti, super e quant'altro, cercate di far spawnare più velocemente tutti gli ultimi senza testa e concentratevi sull'eliminare loro. Ignorate completamente il boss. Inoltre, davvero molto importante, ricordatevi che tutti e quindici senza testa andranno colpiti almeno con un proiettile, perché se uno di questi dovesse morire senza aver subito nemmeno un danno da parte vostra, in ogni caso non otterrete il completamento di questo trionfo. Personalmente nel matchmaking ho dovuto sgomitare un po' per ottenere questo trionfo, sono comunque riuscito a fare tutti e quattro questi completamenti prima di fare 35 settori infestati. Quindi tutto sommato è comunque fattibile. Poi, pandemonio mascherato. Mentre indossi una maschera della festa, completa segrete, incursioni, cala la notte in modalità maestro o gran maestro o vinci round nelle prove di Osiride. Abbastanza autoesplicativo, devo dire settimana scorsa è stato davvero molto, molto utile poter giocare le prove di Osiride nella playlist indipendente, ma a parte questo si spiega da sé. Organizzatevi, c'è anche l'app di supporto, non dovreste avere più di tante difficoltà. Poi, senza morte, completa i settori infestati senza morire, abbastanza semplice da comprendere, e per concludere, golosità. Ottenere un totale di 30.000 dolci. Nel mio caso questo qui è stato l'ultimo trionfo sbloccato perché una volta completati tutti gli altri 19, comunque non avevo ancora raccolto 30.000 dolci. In ogni caso, se voleste velocizzare un po' il processo, vi consiglierei di buttarvi nel crogiolo perché ogni kilo assist vale 8 dolci e a fine partita ne danno comunque un 300. Quindi tutto sommato si fa anche abbastanza velocemente. Ragazzi, con quest'ultimo trionfo per quanto riguarda come ottenere sigillo e titolo, scrittore spettrale e tutto. Come al solito vi ringrazio per la vostra attenzione, vi invito ad iscrivervi se ancora non l'aveste fatto e noi ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti ragazzi!